Buon pomeriggio a tutti, sono Stefano Lombardo, rivenditore Yamaha qui in Campania e sono qui a questa demo per capire un pochettino i nuovi prodotti per quanto riguarda l'installazione. Sono stato veramente impressionato per quanto riguarda queste nuove colonnine che sembrano molto interessanti dalla più piccola al modello più grosso e credo che avranno un gran buon risultato per quanto riguarda anche le vendite specialmente in ambito clericale dove sono sempre più ricercati prodotti snelli e di buona presentazione. Sicuramente anche nel prossimo futuro con questi nuovi prodotti non avremo problemi per la diffusione. Costa delle moto è un bel connubio anche perché come potete vedere ci sono tante nuove entrate anzi prima o poi farò un saltino anch'io e darò un'occhiata un po' più da vicino a quello che è stato esposto. A chiunque sta nel campo musicale sicuramente interessa anche la parte dei motori e quindi perché no? È stata un'ottima scelta da parte di Yamaha avvicinare i due mondi.